Noi parlavamo dei tesami all'università Tu che ricco al colore, un corpo per se sa La risa del somore, un giorno si arderà La risa di tutta la scuola, che la lucciola Ma che tu hai metto a mangiato, tu sei l'unità E senza fare nulla, mi ha rubato l'anima Se puoi tenerla bene, un giorno mi porterà Prego, non farne dal male, questo non uscirà Se tu non mi sono molto a stare, rivedendo il tuo cuore Se vuoi fare pure andare con il bravo Non si intresa ma impunita, per quanto giusta Di una regia, per quanto giusta di una regia Per quanto giusta di una regia, per quanto giusta Forse proprio una scuola, per quanto giusta Forse proprio una scuola, per far la mia mamma Prima di carriere, di chi è il suo brazzo Su più l'internale, se vuoi da bene Ti offre un brin, non più viere, sembra via Vino a bianco, veniamo sul palco Nel mio discorso, parliamo d'altro Dimmi che ore sono tardi Dimmi che ora siamo noi Siamo un'ora indietro, sai Adesso lo vedremo poi Siamo un sentimento, un presentimento Nel passato esiste, ma il futuro c'è E benvenuti, benvenuti a tutti alla Milano Fashion Art Dedicata alla prima azione della Virtual Summer Cup 2020 Un evento dedicato a questi eventi virtuali Svolti sui social che hanno decretato i 5 quadri vincitori Andiamo a conoscere le nostre codeine Allora, io sono Giovanna Nati, ho 18 anni E vi presento il quadro di Anna Maria Bracci Buonasera, sono Marika Monaco, ho 21 anni E vi presento il quadro di Dalia Dazzarini Buonasera, sono Rebecca Bombelli, ho 20 anni E ho il quadro di Patrizio Riccardo Buonasera, sono Marika Monaco, ho il quadro di Sonia Lavazzola Buonasera, Salire Ferraro, ho 18 anni E mi presento il quadro di Cristina Bruni Buonasera E infatti, Maria Boni, Marika Monaco e Rebecca Monteluti Sono state anche Lucia Pugli, che non è presente con noi stasera Purtroppo non è potuto esserci, ma portiamo lo stesso Sono state le vincitrici dell'ultimo format attraverso i social durante il lockdown Chiamato La bellezza vince l'oscurità E mentre invece Giada Ramati e Irene Ferraro Sono importanti i modelli del team E quindi sono arrivate finalisti a molti concorsi durante quest'anno Benissimo, tutto questo è stato reso possibile grazie al nuovo evento Models in Paintings Out E prego, con una bella introduzione, la vincitrice del comparto stilisti Per quanto riguarda la Virgo Summer Cup 2020 Martina è... Rostella Capioni Un applauso Rostella E con lei Grazie Complimenti Rossella Allora, Rossella Non ci conosciamo da poco Ma io sono rimasto stupito Soprattutto dai gioielli Che potrete trovare Non gioielli Vestiti delle perle, intendo Nel suo splendido atelier Con Martina Dispugita Un giorno siamo venuti Abbiamo provato questo Magnifico abito Ma ce ne è veramente per tutti i gusti Dalla signorina Diciamo A La signorona Da serata Da grandama Esatto Da me potete trovare qualsiasi genere Partendo dagli abiti da sposa Abiti da sera Abiti anni 50 40 60 E ovviamente Su risura Quindi ogni somma si può realizzare Benissimo E quindi visitiamo La telecavioni Milano In Via Crema 20 Porta Romana Porta Romana Zona Porta Romana Quindi tanti complimenti Rimani con noi un attimo Rossella Perché adesso è il momento Della nostra premiazione E io ti tengo la coppa La facciamo dare a Martina e a Irene insieme Allora Vieni qui Vittorio Faccio io Ti rego io il microfono Eh? Allora pronti Se l'artista in sala Si prepari E io chiamerò Di fare un passo avanti Anche la modella Di suspense Quindi La seconda edizione Della Summer Cup 2020 By Artes È vinta da Patrizia Riccardo Un applauso a Patrizia Ecco Sveglia Non ti metti fuori Ecco il quadro Fotografi Ecco E con me E facciamo dire Per parole Sì 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 Ed è di questa Quatturità E Venti ripeti che forse è Sì La dittura del quadro È una popola della natura E appunto Devevo dire Che della natura Non mi sono mai nessuna Di stavende Il mio modo di distingere Che però Come sappiamo bene Perché ne abbiamo parlato E poi l'altro Che con il professor Raschetti Un po' Avevi abbandonato Recentemente Stavi andando Su un altro filo Le trovi Ti sei sentita Di proporre Quest'opera Che Ti rappresenta Secondo me In maniera Poi Io devo dire anche una cosa Patrizia Riccardo Questa popola Probabilmente L'avrebbe dovuta vincere Nel anno scorso Ma Siccome continuava A vincere sempre lei A un certo punto Preferendo non partecipare A qualche concorso Ma la finale Era stata vinta Anche lì In un altro locale E quindi insomma Un segno del destino E un segno del destino Che questo quadro L'aveva portato Rebecca Rebecca Complimenti Grazie Grazie E siccome chi Grazie Irene E farei un bello stacchetto Perché è meritato Era qui come finalista Anche Della Summer Cup Tra poco Vedremo un'altra sua opera Nella Fashion Art Di College & Panty Show Ma tu ricorderai Che un altro bellissimo Collage Di Cristina Florini Aveva Realmente Vinto La Christmas Cup Dell'anno scorso E questo Giusto per rimediare Prima di cadere Tutti in Cina Sopra E se stessi E l'anno scorso Sono molto onorata Di ricevere Il nostro premio Il nostro partito Che arriva In atteso Per questo è un po' E tante persone Che conosco già Che sia una bellissima serata Di partecipazione E anche Che insegni qualcosa A tutti Il fatto di stare insieme Ciò che è riemposto Di un po' A sempre Complimenti